Nel mondo del digitale e delle start up vedo sempre più nei ragazzi che arrivano sul lavoro crescere una richiesta di lavoro nuovo in qualche modo, di un lavoro che abbia senso, di un lavoro in cui poter trovare i propri valori, in cui potersi esprimere anche in quanto persona, non soltanto come lavoratore, quindi di un lavoro che mano a mano assume una rilevanza, un impatto molto più vasto, in cui il compenso è solo una piccola parte di questo valore generato.